Zona Sport a cura di Roberto Dallabella 40 anni circa di amore per il basket scoperto nel novembre 75 e diventato col tempo una passione irresistibile e una bellissima professione si può definire così il libro scritto da Flavio Tranquillo telecronista di punta della NBA targata Sky pubblicato da Baldini e Castoldi col titolo Altro tiro, altro giro, altro regalo e disponibile nelle librerie e di tutta Italia da novembre un caloroso saluto da Roberto Dallabella agli ascoltatori di Radio Lag in Blu bentrovati per una nuova puntata di Zona Sport e benvenuto a Flavio Tranquillo che ho il piacere di avere in collegamento buongiorno cominciamo questa nostra chiacchierata parlando del perché di questo libro cosa ti ha spinto a raccontare questi 40 anni o quasi di basket e che effetto ti ha fatto riviverli? ma è perché la risposta a una richiesta una richiesta di un editore che riteneva che ci potesse essere spazio per un libro del genere poi in realtà quando mi sono messo a scriverlo confidando nelle sue capacità di lettura non tanto del mercato ma di quello che ho da dire io mi sono reso conto che effettivamente un po' di cose da dire le avevo quanto interessanti non ho la pretesa di dirlo però le avevo e le ho buttate sulla carta cerchiamo di ripercorrere questo viaggio dall'inizio quando e come hai scoperto il basket? come racconto nel libro l'ho scoperto in occasione di una partita dell'Olimpia che allora si chiamava Cinzano in realtà quella è stata una piccola scintilla ce ne sono state molte altre dalle partite al campetto dietro casa all'inizio nel basket agonistico e per me ha significato arbitraggio perché non ero in condizione di giocare senza fare danni in campo poi il caso che mi ha portato dietro un microfono prima in radio e poi in tv a proposito del tuo passato come arbitro devo assolutamente chiederti una cosa come si vive il basket in questo ruolo così delicato? ma in realtà per me come dicevo è stata semplicemente la maniera di vivere il basket perché come giocatore non ero capace avevo ovviamente attrazione per il campo e il ruolo che potevo ricoprire all'interno del campo era quello dell'arbitro che è un ruolo tecnico tanto quanto il giocatore c'è anche una componente atletica ovviamente meno significativa rispetto a quella del giocatore c'è una componente tecnica ugualmente significativa quindi io l'ho trovato naturale piuttosto bisognerebbe interrogarsi sul perché questo ruolo sia così considerato diverso dagli altri invece che essere uno degli attori della vicenda tecnica sul campo Flavio nelle pagine del tuo libro si parla davvero di tutto di vita, di sport, di cultura è questa capacità di collegare tanti aspetti diversi che rende speciale la pallacanestro la rende speciale per me soprattutto la rende speciale come pentito perché per un lungo periodo di tempo quello del lungo innamoramento nei confronti di questo gioco io ho pensato che la pallacanestro fosse solo pallacanestro quindi 50 partite da vedere 100 da raccontare eccetera eccetera invece la pallacanestro credo che sia al suo top come fruizione quando tu la usi come elemento per elevarti se posso usare questo termine per farlo devi ovviamente guardare anche a destra e a sinistra e non avere sempre i paraocchi che ti tiene dentro quei 28 metri Flavio nel libro si parla anche dei mezzi di comunicazione cosa ne pensi del modo di raccontare lo sport e in particolare il basket di oggi? ma io non so se c'è un modo di raccontare i basket di oggi c'è un modo sicuramente diverso rispetto a quando ho iniziato io e diverso anche a tutti gli anni dello sviluppo all'interno della professione per me di fare informazione non credo che si possa sintetizzare la cosa importante secondo me è riuscire ad avere un proprio modello e non un modello scimmiottato e questa è una cosa molto difficile da fare voglio farti una domanda un po' particolare Flavio è più difficile stimolare l'attenzione dei veri appassionati di basket durante le telecronache o attirare chi di pallacanestro sa ancora poco? per me la risposta è facile perché non sono in grado io personalmente di pormi in questo problema io posso sperare di raccontare al meglio possibile al meglio che sono capace io quello che succede dentro quel campo e le riflessioni gli spunti che nascono da quello che vedo dentro quel campo come poi venga metabolizzato da chi ne sa tantissimo chi ne sa un po' chi ne sa pochissimo chi non ne sa niente chi ne sa tutto è una cosa che bisognerebbe chiedere a ognuno di questi singoli non me lo posso porre come problema perché altrimenti farei un altro mestiere io racconto quello che succede però se posso prendermi altri 20 secondi dalle prime reazioni del libro secondo me noi abbiamo un'idea sbagliata di quelli che sono là fuori cioè quelli che non sanno niente e vabbè quelli che non sanno niente io non so niente di un sacco di cose perché non mi interessano ma quelli che ne sanno un po' sono interessati a saperne di più quindi vogliono semmai una narrazione più specifica non meno specifica però immagino che per te sentirti dire che qualcuno si è avvicinato o approfondito ancora di più la pallacanestro proprio seguendo le tue telecronache sia una bella soddisfazione no? una grande soddisfazione a tutti dico però che in realtà queste telecronache sono una componente che mi rendo conto in televisione abbia la sua importanza ma sono una componente in realtà quello da cui sono stati conquistati è quel famoso gioco che effetto ti fa non avere più Federico Buffa in telecronaca dopo tanti anni passati a lavorare insieme? la scelta è una scelta che ha preso Federico per andare a fare qualche cosa che in questo momento gli aggradava di più e gli dava di più quindi è una scelta che presumo lo faccia più felice e quindi fa più felice anche me è naturale che non bisogna scoprire l'acqua calda di Buffa ce n'è uno questo non significa che finiscano le telecronache finisca il mondo finisca la televisione finisca la pallacanestro ognuno ha il suo stile ognuno ha il suo modo di fare credo che la forza di tutti sia quella di non cercare di fare Buffa o rimpiazzare Buffa che è irrimpiazzabile e penso che non so io ma chi lo ha rimpiazzato sta facendo molto bene con il suo stile e dando quello che ha da dare che è molto Flavio per chiudere questa intervista voglio chiederti un'ultima cosa il tuo lavoro ti ha portato ad assistere dal vivo a momenti storici del basket ce n'è uno che ti emoziona ancora particolarmente ripensandoci? ce ne sono moltissimi chiaramente se parliamo di emozione emozione pura non posso non dire la finale degli europei del 99 perché non avevo alcuna esperienza di torni ipernazionali e la prima volta a partecipare professionalmente a un evento del genere vedere vincere l'Italia oltretutto in quella maniera veramente straordinaria è un ricordo che si stacca dagli altri la prima volta non si scorda mai insomma esatto va bene allora speriamo che ci siano tanti altri momenti di quel livello da raccontare grazie Flavio per essere stato a Zona Sport e complimenti per il tuo libro per la grande passione che metti sempre nel raccontare il basket grazie a voi per l'ospitalità buon tutto prima di salutarvi ricordo ancora il libro di Flavio Tranquillo altro tiro altro giro altro regalo pubblicato da Baldini e Castoldi e disponibile in tutte le librerie e anche online da Roberto Dallabella grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Radio Lag in Blu grazie per l'ascolto